Daniel hai vinto la Coppa d'Oro 2012, 45esima edizione, come ti senti? Eh parecchio bene, anche la forma, la grande forma, la salita manda un parecchio fuorchi e alla fine sono stato più veloci un uomo. Qual è stata la parte più difficile? Chi ti ha dato il filo a torcere? Beh, Giannetto, sull'ultima salita, quando è partito, fai a dover chiamare in maniera nuova, ho ripreso uno scollinamento. Il gesto finale all'arrivo, un gesto di stita, quello di silenzio? Sì, perché magari per passaggiarci tutti, perfetto.